A Moglia si è rinnovata la festa del ringraziamento, il parroco ha benedetto agricoltori e trattori. Una tradizione antica che puntuale si rinnova ogni mese di novembre. Moglia nei giorni scorsi ha celebrato la festa del ringraziamento. 71 i trattori portati in piazza per ricevere l'annuale benedizione. Gli agricoltori della bassa si sono ritrovati a Vondanello per poi spilare sino nel centro di Moglia. I 71 trattori arrivavano da Vondanello, Moglia, Galvagnina, Zoma e Prigognaga. Al termine della Santa Messa il parroco di Moglia Don Alberto Ferrari ha impartito la solenne benedizione ai mezzi agricoli. La conclusione della giornata di festa si è poi celebrata con un banchetto in oratorio a Moglia.